Buongiorno a tutti, buon lunedì, un altro lunedì piovoso, però un lunedì in cui c'è tanto da parlare di sport. In questo caso l'Italia dell'occhio su ghiaccio nei mondiali maschile batte in maniera importante la Corea, raggiunge la terza vittoria su quattro partite e rimane ampiamente in gioco per la qualificazione. L'unica sconfitta è stata 2-0 con la Slovenia, poi tra vittorie contro Romania, Giappone e Corea che portano la nazionale maschile di hockey a concretamente un passo dalla qualificazione per il turno successivo. Speriamo che vadano bene così, vi terremo aggiornato, uno sport in grande crescita, uno sport che ci sta dando grande soddisfazione dopo anche la femminile nel mondiale, anche la maschile ci sta dando tutte queste soddisfazioni. Speriamo nel passaggio del turno che questa è la cosa più importante. Ciao, grazie ancora per seguirmi e vi invito a cliccare in basso a destra l'iscrizione è gratuita e potete dire liberamente la vostra sullo sport. Ciao!